Buongiorno a tutti voi e bentornati in questo nostro nuovo video. In questo video vediamo tre tronchesini con taglio differente. Abbiamo un tronchesino molto piccolo, che ha un taglio raso per piccoli fini, sino a 0,8 mm. Poi abbiamo un tronchesino, che è un po' più inclinato rispetto a quello di prima, ma è anche un taglio maggiore, arriviamo fino a 1,3 mm. Invece quest'ultimo tronchesino è molto inclinato, ha un'inclinazione di 45 gradi e serve per raggiungere parti difficili da raggiungere, per fare lavori di precisione in punti difficili. Vedete che ha un taglio più inclinato. Sono tronchesini di qualità, made in Italy.